raga benvenuti in questo nuovo video di scinomangine oggi un video speciale e noi andremo ragazzi non ci posso credere le scimmie hanno vaso una città non è un film ragazzi questo è pure ragazzi come vedete avete visto questo video molto molto interessato non è un film come avete visto il pianeta delle scimmie che comandano le scimmie non è così ragazzi sono queste scimmie e c'è con un cibo perché hanno fame non si sa e non contagiare gli alberi prato qualsiasi cosa che rispetti la natura allora ragazzi se questo video vi è piaciuto sempre un pollicione su iscrivetevi al canale noi ci vediamo la noi ci vediamo al prossimo video ragazzi mi raccomando state a casa ciao bella raga ciao 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 ciao